Sono passati più di due anni dall'uscita di A Plague Tale Innocence su PC e console di vecchia generazione. Partita un po' in sordina rispetto ad altre produzioni più altisonanti, l'avventura di Asobo Studio è riuscita a farsi apprezzare da critica e pubblico, facendo parlare di sé in diverse occasioni. Un successo meritato, festeggiato di recente con l'annuncio di un seguito in arrivo nel 2022, A Plague Tale Requiem, e con l'uscita di Innocence anche su PlayStation 5, Xbox e Serie X ed S, oltre che Nintendo Switch in versione Cloud. Un'occasione ghiotta quindi per recuperarlo, considerando che è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus e Xbox Game Pass. Ma come si comporta sulle nuove console? Scopriamolo attraverso la nostra recensione della versione PS5. A beneficio di chi vuole una piccola sinossi delle vicende, A Plague Tale Innocence ha luogo nel Regno di Francia del 1348, durante la Guerra dei Cent'anni che l'ha visto contrapposto al Regno d'Inghilterra. La protagonista è la giovane Amicia, costretta ad allontanarsi da casa in compagnia del suo piccolo fratello Hugo, affetto da una misteriosa malattia. I due dovranno così farsi largo tra campi di battaglia e luoghi infestati dai ratti, da evitare con attenzione in quanto indiziati in numero uno per il diffondersi della peste. Per quanto riguarda il gameplay, la componente dominante è senza ombra di dubbio quella stealth. Una ragazza e un bambino non sarebbero di certo in grado di raggiare il confronto con schiere di soldati, soprattutto considerando che Amicia è dotata solo di una fiumda. Quest'ultima può comunque essere usata in caso di necessità come arma, soprattutto in occasione di alcuni confronti obbligati, ma il suo impiego principale è senza dubbio quello destinato a distrarre i nemici. Il livello di sfida non è molto elevato, ma per fortuna è possibile giostrarsi tra alcuni parametri per fare in modo di aggiungere un pizzico di pathos. Veniamo dunque alla prova su Next Gen, effettuata su PS5 dopo aver scaricato la patch 1.09 che aggiunge le funzionalità legate alle nuove console. Dal punto di vista tecnico, le note della patch Next Gen parlano di supporto al 4K, che all'atto finale si traduce in una più modesta risoluzione di 2560x1440. Comunque un guadagno se consideriamo che la versione PlayStation 4 Pro girava coi suoi 1080p in upscaling, ma ovviamente lontana dalla vera risoluzione 4K garantita dalla versione PC. Al di là dei tecnicismi, al semplice esame d'occhio il risultato del lavoro di Asobo Studio si dimostra tangibile soprattutto per quello che riguarda la pulizia dell'immagine. In questo modo si esalta già l'ottimo lavoro nella cura dei colori e delle ambientazioni, ispirate ai quadri di Claude Lorraine. Se nella versione PlayStation 4 lamentavamo una perdita di dettaglio nel passaggio dalle scene interne a quelle esterne, adesso è tutto estremamente più nitido. Si distinguono molto meglio i dettagli del viso come le lentigini e appare molto migliorata la resa dei capelli dei personaggi. È stato inoltre ridotto notevolmente l'effetto blur nell'immagine, che invece in precedenza accompagnava spesso e volentieri l'azione. Nel passaggio alla Next Gen ne guadagna anche la gestione delle luci, soprattutto per quello che riguarda l'illuminazione dei personaggi nella pienombra e la gestione delle ombre in generale. Un altro elemento gradito è il passaggio ai 60 fotogrammi al secondo, che al netto di cali molto lievi fa scorrere in maniera più fluida l'azione. Annotiamo inoltre quello che è un azzeramento quasi completo dei tempi di caricamento, grazie al quale è possibile entrare nel vivo di A Plague Tale Innocence in pochi istanti. Per quanto concerne la versione PlayStation 5, registriamo anche il supporto alle funzionalità offerte dal controller DualSense. Il feedback attraverso la vibrazione è ora più preciso, aumentando il pathos di alcune fasi del gameplay. Quando scappiamo da qualche inseguitore possiamo per esempio sentire nelle nostre mani il passo più veloce e impaurito di Amicia, andando così ad alimentare almeno in parte la sensazione di essere braccati. In modo simile, quando la protagonista fa roteare la sua fionda possiamo adesso percepire col controller il movimento che viene effettuato, trovando l'immancabile resistenza nel grilletto adattivo nel momento in cui andiamo a lanciare il sasso. Per i possessori delle cuffie Pulse 3D arriva infine il supporto all'audio 3D, che di sicuro male non fa. La recensione di A Plague Tale Innocence per PS5 non può fare altro che confermare in larga parte quanto detto all'epoca della prima prova del gioco. Il gioco sviluppato da Asobo Studio è una piccola chicca della vecchia generazione, che ora abbiamo tutti quanti l'occasione di rigiocare o recuperare in modo gratuito grazie al suo arrivo su Next Gen tramite le piattaforme ad abbonamento. Il consiglio che vi diamo è quello di non lasciarvelo scappare, soprattutto nel caso in cui abbiate mancato il primo appuntamento. Voi cosa ne pensate? Sono aggiornamenti che vi hanno lasciato soddisfatti? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per combattere la peste nera. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.